amiche con la bella stagione abbiamo voglia di essere brillanti e toniche oggi vediamo un trucco urban daily che ci fa sentire a posto dalla mattina alla sera e lo facciamo con la nostra esperta lorena smagnotto al mar studio milano ciao lorena ciao samantha qual è la tendenza di questa estate 2018 allora per quanto riguarda questa estate si gioca molto con le tonalità del rosa e io oggi ho scelto per te una tonalità di rossetto che è una tra le mie preferite si chiama flirt e già il nome è un programma direi flirt satin lipstick è un rossetto a lunga durata molto pigmentato ma che rimane comunque molto brillante te lo applico con il pennello 310 che è un pennello adattissimo alla stesura del rossetto sulle labbra lo stendiamo partendo dall'angolo esterno verso l'arco di cupido in questo modo con un tratto deciso è adatto a tutte le età va benissimo per le giovanissime che vogliono apparire ma va bene anche per le meno giovani che si sentono pop wow e voilà labbra finite però non puoi uscire senza un tocco di luce ok che prodotto utilizzi utilizzo un contour powder in questo caso uso la tonalità spark che è una tonalità che si abbina benissimo con la tonalità della tua pelle e regala una luminosità impaccabile te lo applico con il fan brush numero 510 prelevo un po di prodotto e lo stendo sopra lo zigomo lo applico anche sull'altro zigomo per completare il make up allo stesso modo con un movimento veloce e deciso e voilà per scoprire le tendenze di questa estate siamo venuti qui alla mad studio milano che è la scuola professionale per truccatori e con questo trucco urban daily siamo a posto da mattina a buonasera siamo pop e anche un po rock se vi è piaciuto questo tutorial mettete un like e soprattutto iscrivetevi al canale don't forget the mirror gli unici tutorial che sono sempre di tendenza lo specchio della vera bellezza guardati sei tu